Non mi convince l'argomentazione di Andrea Romano, questa Camera andava per forza abolita perché è un'anomalia? No, non mi convince, ma onestamente in parte mi convince perché io l'avrei modificato il bicaraverilismo paritario, sono molti anni che lo diciamo, che così è abbastanza inutile, probabilmente avrà la sua funzione ma non è particolarmente importante. Per esempio sono del tutto d'accordo che abbiano tolto il potere del Senato di dare la fiducia al governo, per esempio quello è uno snellimento importante, ma per il resto non è assolutamente vero che faccia poco questo Senato. Si è tanto detto che fa poco, ma secondo me si è molto detto che fa poco per dare la sensazione che i nostri discorsi, questi dei gufi, insomma delle persone cattive, che dicevano perché lo eleggiamo così, questo Senato, e fossero discorsi inutili perché dice tanto, questo Senato fa molto poco, quindi cosa stiamo a discutere di com'è composto? La verità è che fa molto, è composto in un modo balordo, perché veramente al mondo non esiste una cosa così, che i consiglieri regionali si eleggano fra loro, eleggono alcuni sindaci, non so come... Arriviamo a qualche a questo punto professoressa Carla Sarre, volevo chiedere alla professoressa Carla Sarre, se questa riforma si intravedono, secondo lei, dei pericoli per quello che noi comunemente chiamiamo la democrazia? Ma li vedo sì, li vedo molto forti, per carità, anche perché questa compagine governativa, questo gruppo diciamo che al momento è al potere e dovrebbe forse avere la sensazione che anche la Costituzione non sono fatte per un governo, sono fatte per durare e allora possono anche, dovrebbero rappresentarsi l'ipotesi che altri utilizzino questi meccanismi che forse loro non utilizzerebbero in una forma autoritaria, però si prestano moltissimo, perché vede quando si parla, dice aumentate le garanzie, non sono aumentate per niente, per esempio prendiamo la cosa del Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica, l'avete già menzionato molto giustamente, il Presidente della Repubblica dovrebbe essere un'istituzione di garanzia e ha funzionato anche in alcune situazioni, ha funzionato e servito. Oh, cosa succede qui? La Costituzione cerca di tenere il Presidente della Repubblica fuori dalle forze politiche, cioè fa tutto il possibile perché il Presidente della Repubblica sia un organo super parte, su un organo in qualche modo neutrale nella misura in cui una persona politica può essere neutrale. E allora che cosa fa qui? Allora, la cosa divertente è che dicono anche che aumentano le garanzie perché passano dalla maggioranza assoluta ai tre quinti. Ora, appunto, come voi avete osservato giustamente, i tre quinti che loro chiedono, loro, dico loro, perché a un certo punto li vedo come un gruppetto un po' squallido perché si è visto come è stata votata questa riforma in un Parlamento semi vuoto, era allucinante. Allora, questi tre quinti sono i tre quinti dei votanti. Eh no, c'è una cosa che vorrei chiarire, però scusate, perché io sono in una condizione veramente deteriore perché essendo, non essendo potuta venire a Roma, sì, da casa non è che si riesce a partecipare in modo efficace. Comunque, volevo dire, togliamo almeno una delle tante menzogne perché, allora, dice, noi diamo al popolo questa possibilità di fare un referendum, un confermativo, poi vedremo. Non gli danno nessuna possibilità perché è la Costituzione che la dà, anche se non volessero, la referendum si fa comunque e non si fa su Renzi, perché del destino di Renzi a noi importa poco, ci interessa il destino della nostra democrazia e il destino soprattutto della democrazia costituzionale, che è quella che è a rischio perché i poteri sono concentrati insieme con l'Italicum perché questa riforma non si può cercare di decifrarla se non si decifra anche il suo collegamento con l'Italicum. Però lei era nella Commissione Quagliariello Letta che definì la necessità di... Io voglio precisare che tutto quello che io ho detto era quello che dico adesso e in quella Commissione io non ho partecipato, ho partecipato criticando alcune posizioni, in particolare questo fatto che il Senato non fosse elettivo perché da quando, il romano lo sa benissimo, una delle prerogative tipiche della funzione legislativa è quella di essere riservata da sempre o al popolo o ai suoi rappresentanti. Allora mi sono chiesta perché non si potevano fare leggere i senatori dal popolo, diciamo di ciascuna regione. è un momento in cui la gente si sta staccando totalmente dalla politica e la sente come qualche cosa di separato da sé. Questa poteva essere un'occasione non cattiva per dare un senso di maggiore appartenenza a queste istituzioni. L'idea che ci siamo eletti noi, i nostri pochi, due, tre, come fanno gli Stati Uniti. Sul punto del Senato però c'è una questione che ha fatto discutere molti, cioè il fatto che al Senato andranno delle persone, dei consiglieri regionali e li godranno dell'immunità, caro Romano. Lì non c'è il rischio che si mandino magari alcuni indagati e quindi, signorelli già, se si inquadra, si vede che sorride, ride, anzi di gusto, a crepapello userei dire. Ma esiste il rischio? Che veramente è faticoso star dietro a delle persone che non hanno nessuna idea e vogliono continuare a dire che noi non diciamo niente. Le obiezioni che facciamo sono scritte da tutte le parti, certo è un po' difficile farlo in televisione qui da casa, ma sono molto forti queste obiezioni. Per esempio questo bicameralismo, potevano levarlo il Senato, era meglio secondo me, perché così la complicazione sarà enorme, perché su ogni legge approvata dalla Camera, ogni legge deve passare al Senato. Il quale, come Stato, ogni legge approvata dalla Camera deve passare al Senato, che può naturalmente fare i suoi. Allora lì si aprono non una, ma moltissime possibilità che possono sfociare in conflitti, è inutile che... Voglio far citare la legge di bilancio, mi perdoni. Perché possono sfociare in conflitti, tanto è vero che è scritto nella riforma... Beh, se parliamo in due... No, 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 per voi, finisco e poi replica Romano. È scritto nella riforma che se ci sono dei conflitti fra Camera e Senato, li risolvono d'accordo i loro presidenti, d'accordo. Dunque i conflitti fra Camera e Senato sono già supposti, ed è molto divertente pensare che li risolvano d'accordo i presidenti delle due Camere. E se non fossero d'accordo, io ho l'impressione che nasca un grande pasticcio, ma non è questo che mi preoccupa. È il potere senza controlli, senza limiti e senza freni.